Ciao ragazzi e benvenuti fino a questo nuovissimo video Oggi ragazzi andremo a giocare alle Bedwars Ma nella vita reale Regà, è una texture pack che siamo proprio nella vita reale Io non sto scherzando Adesso andiamo in game, ve la farò vedere Regà, preparatevi Perché è davvero, davvero OP questa texture pack Proprio siamo nella vita reale, ragazzi Lasciate un bel like, iscrivetevi, vedete anche la campanellina E nulla, io vi auguro una buona visione Allora regà, ci siamo, ci siamo, ci siamo Guardate qui Gli Steve, ragazzi, hanno una faccia di un uomo Proprio Minecraft È proprio la vita reale, ragazzi Hanno una faccia di un uomo, come volete vedere Prima partita Questa è l'ender chest, ok? Questa è l'ender chest Questa è la chest Questo è il letto Cioè, cose assurde Questa è la terra, ragazzi, è terra vera, cazzo Intanto qui abbiamo un sacerdote, credo E nulla E con una faccia, naturalmente, va bene Sembra una faccia vera Allora, ragazzi, no, sembra È una cazzo di faccia vera Prendiamo la Gapple Vi voglio far vedere adesso la Gapple Come è Guardate qui com'è la Gapple Cioè, ragazzi, è una mela Cioè, è una mela No, è una cazzo di mela Allora, ci prendiamo le shader Che sono appunto delle forbici E altri blocchi Le shader proprio sono forbici vere e proprie Allora, siamo con le shader, ragazzi Quindi diciamo che È un po' scomodo giocare con le shader Ma fidatevi, ragazzi Che è molto, molto meglio Giocare con le shader Infatti adesso, infatti Quando c'è l'ombra Non si vede letteralmente nulla Ok, abbiamo il bianco qui sotto Che vediamo se riesco Ah, che là? Minchia che volo, ragazzi, che gli ho fatto fare Guardatele Il legno, ragazzi, è real Cioè, guardate qui È cazzo di legno vero Oh, oh, oh Aspettate che sono in una situazione un po' bruttina Ok Ok, e lui è andato Allora, che puliamo Va bene, così Manca uno di gold E possiamo farci l'armor E ci facciamo subito l'armor Che sono proprio i piedini, ragazzi Cioè, guardate qui Guarda No, vabbè, non ho parole dell'armor, davvero Però adesso, ragazzi Voglio farvi vedere una roba Ovvero Andiamo mid Sapete che vi dico Preparatevi Preparatevi ad una cosa Andiamo mid E vi faccio vedere la cosa più bella Davvero Intanto, ragazzi L'erba, cioè Si muove bellissima Le foglie davvero molto molto carine Partendo da mid Abbiamo gli smeraldi, ragazzi Che sono veri Cioè, noi abbiamo gli smeraldi, ragazzi Abbiamo Letteralmente Guardate qui Guardate qui Cioè, sono È lo smeraldo vero È lo smeraldo vero, ragazzi Cioè, di chi stiamo parlando? Poi Ne prendiamo Quindi ci facciamo Un giretto di smeraldi Ci prendiamo la perla, ragazzi Che appena vedete la perla Credo che vi sentite Mario Quindi preparatevi Allora, qui c'è la base grigia, ragazzi Che hai letto, signor grigio Quindi, se noi riusciamo A fare qualcosa di figo Anzi Andiamo a prendere i diamanti Intanto Lasciamo anche il grigio Diamanti Oh mio Regà Regà Però, non ho parole, ragazzi Cioè, ragazzi Queste sono proprio le bedwars Nella vita reale Cioè, però Bedwars nella vita reale Queste sono, ragazzi Punto E c'è il grigio, ragazzi Ma c'è anche il rosso 8 smeraldi E 4 diamanti Non mi vado a buttarli Quindi andiamo in base pink Ci prendiamo Spadendia E perla Cioè, raga Ragazzi La perla È qualcosa Di incredibile La perla È qualcosa di incredibile Prendiamo anche qualche fireball Così ve la faccio vedere Ragazzi Guardate qui la fireball Cioè Le gheppo E la perla Ragazzi La perla Mamma Non ho parole Di che cosa stiamo parlando, ragazzi Di che cosa Stiamo parlando, davvero Allora, credo che le cose più carine Ve le ho fatte già vedere Questo Come non l'ho preso, lol? Allora, che puliamo? Lui è il signor rosso Ah, ok Signor rosso Vieni, vieni Ok, sprecato la perla Va bene Anche se moriva Va bene Ha sprecato una perla Non è quello che è il problema Ok, sta avendo il tenente jump Ragazzi, il signor giallo Che è morto Va bene DG Non avrebbe a bloc Quindi torniamo un attimo indietro Ho preso anche gli utenzi Ragazzi Ma Oddio, raga Ma Il piccone è real Raga, ma il piccone è real Oh mio Dio No, vabbè, raga Ma che cazzo di piccata è? Ok, ragazzi Abbiamo il giallo qui Quindi andiamo Speriamo che non hanno nulla Ad esempio a fare Buona roba del genere No, bravissimo Però non deve avere nulla Oh, ce l'abbiamo dietro C'è un cos'è C'è un cos'è Ah, il legno, ragazzi Oddio, smirato Ragazzi, ha dato una smirata No, incredibile Qualcosa di più Oh mio Dio Ragazzi, il nuovo è quello vero Non ci credo Guardare il secchio d'acqua No, vabbè Oh mio Dio Chiudiamola Oh mio Dio, ragazzi Mamma mia Questo era il TNT Che è tipo un Un barile Con scritto Explosive Oh Oddio No, raga Di cosa stavo parlando Oh mio Dio Va bene, raga Mi chicca dalla partita Per la connessione Non si può regionare Va bene Comunque Spero che appunto Avete capito Un po' la pacca come funziona Adesso vi facciamo un altro game E vi faccio vedere anche Quindi secchio di acqua Secchio di lava E c'era Quindi tutte le altre cose Un po' più carine Quindi ragazzi Secondo game di oggi Allora Forse con le shader ragazzi È un po' troppo acceso il colore No? Però naturalmente si può giocare anche senza shader Ho mai solo shader appunto Perché sono più carine Vediamo che è bellissimo Ragazzi Con le orecchie È proprio un villager vero Mamma mia Ok Già sta arrivando il signor bianco Ragazzi Quindi Questo vola Ci facciamo il letto Molto molto chill Il letto è andato Ok Vediamo se riusciamo No niente Non riesco Va bene Va bene Va bene Abbiamo il bianco sopra ragazzi Io Anche con le shader Non riesco neanche a giocare per bene L'ho preso? Ok Sì Adesso sì È tenuto Morto Il mio letto è stato distrutto Madag Oh Eh certo Mamma mia Mamma mia Va bene Va bene Ok ragazzi Ho startato un HCSG Per vedere un po' Poi se la giochiamo ma Mamma Pietini Questo Oh mio No vabbè raga Ma che cazzo di ficata è Oh mio D Non ci credo Non ci credo No io voglio far vedere adesso però Metto un attimo una lava Guardate Mamma mia Guardate le me Ragazzi le mele Cioè raga Di cosa stiamo parlando davvero Diamanti Pane Che vabbè E' uguale Le bottiglie appunto GXP E va bene Abbiamo uno qui ragazzi Mid che prende fuoco Quindi Intanto voglio un attimo Lo dare un po' Perfetto diamanti Allora facciamocela Sì split Mamma mia ragazzi Una maglietta Che figata E anche la spada Lo sapevo Lo sapevo Che c'era quello Che non si doveva fare I cazzi suoi Ok Facciamocela qui Quindi crafting E spada E si vola Adesso siamo messi bene Ragazzi Cioè il fuoco ragazzi È real Cioè che mamma Che spettacolo Ste pack Oh mio dio ragazzi L'arco L'arco è fantastico Davvero l'arco è bellissimo Va bene Siamo rimasti in pochi Dai 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 Dobbiamo trovarli Ok ragazzi Siamo nel beat match Perché appunto Sono morti Tutti siamo rimasti in quattro E vediamo un po' Difficile Difficile A parte che Con le shader Non vedo letteralmente Una sega Ma va bene Così ho pantaloni Ce li mettiamo Che siamo nudi Oh me di biscotti Regà Oh Vieni qua Preso 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 Vediamo se riesco Morto uno Chepple Non vedo neanche bene Ragazzi perché Appunto ho le shader Però li sto hitando L'importanza è quello Mi posso unire alla fight Fare il coglione E chiedere tutti e due Non so lui Quanta vita ha Non lo so Ma lo sto hitando Non lo so Ovviamente non lo so Chepple No bastardo No Ok Mi ha messo la lava Chepple 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 È finita proprio ragazzi Cioè Sono morto Ho l'ho frecciato Lontano Per una settimana Sono morto Eh vabbè Regà GG Eh vabbè GG Non avevo nulla Non poto farci nulla GG Ragazzi Questo video Può terminare qua E naturalmente Spero vi si è vissuto Lasciate un bel like Iscrivete anche La campanellina Veramente ragazzi Bellissima Stata extra Il pacco La lascia in descrizione Se volete scaricarle Vi auguro Una buona giornata E vi saluto Bella